Sei morto Alberto, ma continua la tua avventura e mori quanto vuoi. No, molto dolore, che ha molte sofferenze, non vera giustino, del colera, oh, via. Mi sono abitura. È il mio momento di intraprendere un'altra avventura coronta, dare a me morte. Morto numero 28. Ancora una volta partì nel deserto di Pera, di Trilis, covigato a Vaccaro, passando per lì, il villaggio di Giroga, dove sono stato un'ultima volta. Questa volta ero via in montagna, a separarsi nel deserto. Ho visto questo punto di vista in i miei guinei delle steppe e si stendero vino al horizonte. Ti uccideremo, a perdere il figlio sul capo. Chicos! Colpi sono... Puoi rivedere alcune guerre, Terrakang, Gang, Petitenda, i colpi sono morti. Ah, cazzo, cazzo, confato! Oh, alla fine. Morto. Cosa? Cosa? Dove sono? Evanda! Io sono un viggatore! Non sporro. I nostri ragazzi ti hanno trovato per il corpo di Pertruccio, il nostro emissario. Sono strato di percasso! Francesca! Mi rosserai? Patruccio, la nostra famiglia. Hai un uccio qualcuno della nostra famiglia. Capisci? Sei venuto con la mafia di Giovanni Paesano Piega. Hai capito? Quali torture ti stanno esbatando? E mi chiederanno così tanto. Puoi divertirti. Non gli indirio nulla. Non hai niente. Contro di me. Ho detto quello che so. Sommet chiami. Alberto Ulrich. Allora, Alberto Ulrich. Qual è il tuo ultimo desiderio? Mi ho chissato con qualche effetto evitare. Non hai puora delta morte? Interessantene. Francesca! Dommi e Unchili. eeeh ahhhh eeeh 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 mmmm mmmmm mmmmm mmmmmm Quanto finalmente mi direi queste parole, io e ghià, noi so. Lassate sia per te, dille tu stresso, Sigilia, il tuo destino da solo. Morto, Alberto. E così ve sono morto nel 28. Morto. 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 Morto.